Coraggio! Andiamo a vedere dove è finita la palla! Dove posso trovarlo? È davvero complicato! Ciao! Siamo a Team Umizu! E oggi siamo venuti al centro spaziale di Città Umì! Nel centro spaziale ci sono toggio gesti interessati! Il centro spaziale ha anche un razzo che va verso lo spazio infinito! Ti piace lo spazio infinito! Bene, corpo di mille balene! Hanno risolto il puzzle! È un sottomarino! Incredibile! Hanno risolto il puzzle! È un polipo!